Anticipazioni Uomini e Donne 14 febbraio, speciale San Valentino con le coppie? Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio, ci sarà lo speciale San Valentino? Cosa succederà nel corso della puntata di Uomini e Donne, che vedremo in onda domani 14 febbraio su Canale 5? È questa la domanda, che si stanno opponendo i tantissimi spettatori del dating show condotto da Maria De Filippi, curiosi di sapere se domani pomeriggio andrà in onda una puntata speciale di San Valentino così come è accaduto lo scorso anno. Spoiler Uomini e Donne, speciale San Valentino con le coppie? Nella passata edizione di Uomini e Donne, infatti, vedemmo che la redazione decise di organizzare una puntata speciale di San Valentino con protagonisti e tutte le coppie, che si erano formate nel corso dell'ultimo periodo, tra cui Andrea Damante e Giulia Delellis ma anche Claudio Sona e Mario Serpa, le quali affrontavano una serie di prove per arrivare alla proclamazione della coppia vincitrice di questo speciale. Un appuntamento, che il pubblico da casa aveva gradito molto, visto che quella puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alle coppie della trasmissione aveva ottenuto una media di circa 3 milioni di spettatori con uno share, che aveva superato la soglia del 20%. Insomma un grande successo in termini di spettatori, che potrebbe essere ripetuto tranquillamente in occasione della giornata di San Valentino 2018. Cosa succederà quest'anno? Ci sarà un altro appuntamento speciale con Uomini e Donne, che avrà come protagoniste le coppie della trasmissione di Maria De Filippi? Le anticipazioni di queste ore rivelano che la produzione al momento non ha dato nessuna comunicazione ufficiale su quella che sarà la programmazione del dating show di Maria De Filippi per la giornata del 14 febbraio. La verità sulla puntata speciale di Uomini e Donne del 14 febbraio. Al momento, quindi, non sarebbe in programma nessuna puntata speciale di Uomini e Donne con le coppie da trasmettere durante la giornata di San Valentino. Un colpo di scena inatteso per i fan, i quali speravano che questo appuntamento fosse diventato una prerogativa da mandare in onda durante la giornata in cui si festeggiano gli innamorati, ma così non sarà. Molto probabilmente la puntata di Ued di questo mercoledì 14 febbraio 2018 sarà dedicata al Tron Over, di cui domani dovrebbe andare in onda la prima parte della nuova registrazione del Tron Over, che ancora una volta avrà come protagonista la regina indiscussa della trasmissione, Gemma Galgani. Ci saranno altri appuntamenti con le coppie nel corso della stagione? Seguite il nostro canale per tutti gli aggiornamenti. Grazie per la visione!